Noi siamo a Capodorlando, va bene? La prima tappa sarà qui all'isola di Vulcano, in questa baia qui, che si chiama Baia, e ve lo dico anche, Cala Formaggio. Formaggio? Formaggio. Staremo qualche ora qui nel tramonto, comunque tardo pomeriggio, con molta calma, relax, quando volete voi, e via dicendo, ci sposteremo per l'Ipari. E' Capodorlando nell'estate del 2020 una delle ambitissime mete di diversi top influencer italiani, che la scelgono soprattutto per la semplicità con cui dal porto turistico è possibile raggiungere le isole Olie. Una vetrina importantissima, anche se nella quasi totalità dei casi, chi ha superato i 50 anni non ha idea di cosa sia un influencer, basti citare la coppia Chiara Ferragni e Fedez per avere un'idea. Sono infatti milioni gli italiani, soprattutto i più giovani, ad affidarsi alle opinioni di queste vere e proprie star di Instagram, che hanno la capacità di influire sulle scelte di acquisto dei propri followers. Nel settore del turismo, infatti, l'influencer non condivide solo un contenuto commerciale, come potrebbe fare un brand, ma trasmette le sue emozioni e sensazioni, condivide un'esperienza, racconta come si è trovato durante il soggiorno, cosa ha apprezzato, mostra che servizio ha avuto, interagisce con gli utenti, che si trovano dunque immersi nella vacanza e invogliati a viverla in prima persona. Da qui la grande efficacia dell'influencer nel settore turismo. E mentre sono sempre di più le agenzie di viaggio e gli hotel ad aver verificato che i risultati superano le aspettative, Capodorlando è stata e continua ad essere meta scelta da diversi top influencer, di cui la più seguita è certamente Paola Turani, che occupa il settimo posto nella classifica degli italiani più seguiti, contando un milione e mezzo di followers e sei milioni di interazioni sui post. Insieme a lei il 27 giugno scorso sono partiti da Capodorlando per raggiungere le isole Olie altri tre top influencer, Giulia Valentina, ex fidanzata di Fedez, che conta 800 mila seguaci, l'attrice Tess Masazza, 680 mila followers e il fotografo Manuel Bifari. Oggi invece tocca a Giulia Gaudino, seguita da quasi 600 mila persone, arrivata ieri a Capodorlando e partita stamattina a bordo di un caicco insieme a Frank Gallucci, anche lui seguito da oltre 150 mila followers, anche in questo caso Direzione Olie. Una vetrina è un'opportunità straordinaria per Capodorlando e per le sette perle del Tirreno, che negli ultimi dieci giorni stanno monopolizzando le storie Instagram di milioni di persone.